Sgominato dalle fiamme gialle, un sodalizio specializzato nel commercio di pneumatici. Alta Villa Vicentina, tragedia in strada, scontro tra due auto, morto un 44enne. Centinaia di capi predati ogni anno, gli agricoltori protestano davanti al Palazzo della Regione. Malo, danni del maltempo, summit dei sindaci, vicentini lunedì in provincia. Primo intervento al nuovo centro trapianti di Vicenza, moglie dona il rene al marito. È vigilia delle Olimpiadi, 12 vicentini in gara sui 32 atleti veneti. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione di Vicenza e provincia. In apertura la cronaca maxi operazione della Guardia di Finanza, due arresti, l'accusa è quella di frode fiscale e banca rotta nel commercio di pneumatici. Otto le società coinvolte. Sono le prime luci dell'alba quando le fiamme gialle entrano in azione. Fare puntati su una presunta frode fiscale di grandi dimensioni. Due arresti, 13 indagati, 21 perquisizioni, 8 società coinvolte tra Vicenza, Padova, Albignasego, Mestrino e Venezia. Misure cautelari nei confronti dei tre amministratori di una società che commercia pneumatici. Ordinanza di custodia in carcere per un 56enne di Montegalda, arresti domiciliari per la compagna romena di 43 anni, obbligo di dimora a Sandrigo per un 58enne. Secondo gli investigatori, l'imprenditore di Montegalda, già arrestato e condannato per analoghe condotte fraudolente, durante il periodo di detenzione al Due Palazzi di Padova, sarebbe riuscito a riorganizzare la struttura operativa grazie anche a diverse teste di legno, formali amministratori di tre società utili a emettere fatture false. Ma c'è di più. Mentre appunto si trovava detenuto a Padova, quindi sempre a seguito della prima indagine per la quale era stato condannato, il vertice del suo talizio, quindi l'imprenditore, è riuscito ad ottenere la scarcerazione facendosi affidare i servizi sociali. In realtà, indicando di prestare manutenzione appunto come piccolo manutentore presso un'associazione dilettantistica sportiva di rugby, grazie a delle false attestazioni che sono state rilasciate dal presidente e da uno degli allenatori di questa associazione dilettantistica di Vicenza. Mentre veniva riorganizzata la struttura, secondo gli investigatori sarebbero state anche svuotate altre due società utilizzate nella precedente frode fiscale, aggravandone la situazione con più di 40 milioni di debiti soltanto nei confronti dell'erario. Per questo è stato dichiarato il fallimento ed è scattata la denuncia per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore, per la Guardia di Finanza, avrebbe agito coadiuvato dalla compagna e dal figlio, ma anche da un ragioniere 47enne di Albignasego che non si sarebbe limitato a un contributo professionale, ma, secondo le fiamme gialle, avrebbe tenuto in vita il core business del suo talizio, fornendo in prima persona gli strumenti giuridici per reiterare le presunte condotte criminose. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'emissione di fatture per presunte operazioni inesistenti per più di 28 milioni di euro, con conseguente IVA e VASA per oltre 3 milioni di euro, consentendo così di vendere, anche online, gli pneumatici alla clientela finale a prezzi illecitamente concorrenziali. Abbiamo sequestrato numerose documentazioni e anche informatiche, adesso ci dedicheremo, sotto la direzione del Pubblico Ministero, all'analisi di tutto questo materiale. Ancora cronaca, Altavilla Vicentina, tragedia in strada, scontro tra due auto in serata, muore un 44enne. Non ce l'ha fatta il 44enne che aveva riportato gravi ferite a seguito dell'incidente avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, lungo la Statale 11 ad Altavilla Vicentina. Dopo essere stato trasferito in rianimazione al San Bortolo è deceduto in mattinata. L'incidente aveva coinvolto due auto nello scontro e distriscio anche una terza vettura. L'impatto violento aveva causato anche dei detriti presenti sulla carreggiata per oltre 100 metri. La squadra dei vigili del fuoco era intervenuta mettendo in sicurezza i mezzi ed estraendo da una delle auto l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo che era poi stato rianimato sul posto del personale sanitario del suo e trasferito in ambulanza in codice rosso in ospedale. Estratta anche la copia di cingalesi a bordo del secondo mezzo, anche loro rimasti bloccati all'interno dell'auto, entrambi assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti in pronto soccorso. Coinvolta di striscio una terza vettura, il leso, il conducente, cause dell'incidente al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi durante le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato su una viabilità alternativa. Le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo si sono concluse ieri in tarda serata. Voltiamo pagina sul fronte sicurezza. L'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, chiede a Giacomo Possamai di attivarsi perché il taser venga fornito agli agenti. Il sindaco Possamai insista ancora nel non voler concedere il taser alla polizia locale di Vicenza. Date il taser ai vigili, parola di Francesco Rucco. L'ex sindaco si era già mosso ai tempi in cui era lui il primo cittadino di Vicenza. Poi di attrezzare gli agenti di polizia locale con quello che si può considerare un vero e proprio fucile a impulsi elettrici non se n'è più parlato. Adesso il tema torna di attualità con l'annunciata sperimentazione del taser da parte dei vigili di Milano dove ad amministrare c'è il centro-sinistra del sindaco Giuseppe Sala che durante la campagna elettorale era venuto a Vicenza a sostenere Giacomo Possamai. E qui arriva la richiesta di Francesco Rucco che il consiglio comunale avvii un confronto tra maggioranza e opposizione di centrodestra per discutere l'introduzione del taser. A Milano il comune ha dato il via libera per attrezzare gli agenti per affrontare situazioni critiche. A Vicenza non ci sono segnali in questa direzione e Francesco Rucco tira per la giacchetta Giacomo Possamai perché si attivi per il taser. A Milano il sindaco Sala, suo mentore invece lo concede in accordo con l'opposizione di centrodestra. È evidente la necessità in città di misure concrete e il taser è una di queste. Aspettiamo quindi l'adozione come a Milano anche a Vicenza del taser. Torniamo adesso a parlare di lupi e di predazioni. Centinaia di capi predati ogni anno con una media in crescita di oltre 800 animali divorati, uccisi, abbattuti a causa delle ferite. E la provincia che paga il tributo di sangue più pesante è sempre quella di Vicenza dove ormai i branchi di lupi presenti nell'altopiano dei sette comuni colpiscono ogni giorno malghe e allevamenti. Vacche da latte e da carne, manze, vitelle, pecore, capre, pure asini e cavalli finiscono quotidianamente nelle fauci dei selvatici che sono stanziali nel territorio altopianese con otto branchi e forse più. Il mondo agricolo non intende più sopportare tutto questo e il tema dei lupi è finito nel faldone che il comparto ha consegnato agli assessori regionali nel corso di una manifestazione di col diretti che ha portato migliaia di persone davanti al palazzo della regione di Mestre. Ai referenti regionali l'associazione di categoria ha fatto sapere che le predazioni avvengono anche di giorno e a ridosso delle aree urbane tanto che spesso vengono uccisi e divorati anche cani e altri animali da compagnia custoditi nei giardini delle case. Negli ultimi giorni in altopiano sono stati uccise tre manze sopra Lusiana Conco e altri due animali della Malga Verdi in Vallastaro portando i gestori della struttura ad abbandonare anche alcuni pascoli perché troppo pericolosi. Prima i lupi avevano colpito a Malgamazze nell'area di Caltrano e ora sono molti i malgari che stanno pensando di chiudere anzitempo l'alpeggio per mettere il sicuro nella stalla i propri animali. Adesso i selvatici diventano motivo di pericolo pure per la circolazione stradale. Un esemplare è stato travolto e ammazzato vicino a Fozza. Gli agricoltori sono esasperati ma non intendono mollare però vogliono risposte dalla regione subito. Non ne possiamo più. Le nostre aziende sono in grossa difficoltà. Non possiamo mettere a rischio la sostenibilità economica delle nostre aziende in nome di qualche ideologia. Chiediamo un controllo, chiediamo un cambio di passo alla regione. È una questione non solo agricola, è una questione per tutta la società. Ricordiamo che il ruolo dell'agricoltore nell'ambiente è fondamentale. Più agricoltura significa meno di sesto idrogeologico. Lo chiediamo a gran forza. Siamo la regione con più presenze turistiche. Siamo la regione con il patrimonio agroalimentare più importante di tutti. Non buttiamo al vento tutta questa nostra ricchezza. E a proposito di lupi, ci spostiamo ad Arsiero. Due attacchi distinti al bestiame sono stati effettuati a distanza di 11 ore, uno dall'altro. Il primo alle 8 di ieri sera, il secondo alle 7 di questa mattina. Tra l'altro pare che gli attacchi siano avvenuti in presenza di persone. Insomma, i lupi sembrano essere sempre più audaci nelle loro predazioni. Adesso parliamo di maltempo a Malo. Summit dei sindaci dei comuni Vicentini alluvionati. Lunedì appuntamento in provincia. Un summit convocato in provincia lunedì. Vertice tra i sindaci dei comuni del Vicentino che hanno subito i danni maggiori del maltempo dei mesi scorsi. A farsi portavoce dell'esigenza dei primi cittadini, Moreno Marsetti di Malo, che da tempo conduce il pressing per capire quali saranno gli interventi orientati alla prevenzione sui territori e per avere risposte sui ristori, visti i danni rilevati sia al patrimonio pubblico sia ai privati. Basti pensare che quelli stimati solo sui tre comuni di Malo, Monte di Malo e Isola Vicentina, per quanto riguarda il patrimonio pubblico, si aggirano sui 20 milioni di euro. Enti comunali alle prese con i tagli e che non riescono a far fronte alle emergenze, lanciano l'SOS agli enti e ai parlamentari vicentini, di cui la richiesta, accolta dalla Prefettura, di convocare il summit, cui sono stati chiamati ad intervenire non solo i sindaci, ma anche i rappresentanti dei vari enti, come il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il Genio Civile, Via Acqua, i parlamentari vicentini e il presidente Anci Veneto, Mario Conte. Un paracadutista americano sarebbe rimasto ferito durante un'esercitazione svolta da parte di un'unità della caserma Ederle di Vicenza. L'addestramento prevedeva come target la zona di Maniagon, siamo vicino a Pordenone, secondo quanto riportato dall'Ansa. Il giovane, una volta stabilizzato sul posto dal personale sanitario, sarebbe stato trasferito all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Noi adesso torniamo a Vicenza, primo intervento del nuovo centro trapianti dell'Ulss 8 Berica. A pochi giorni dalla sua inaugurazione è entrato in piena attività il nuovo centro trapianti dell'ospedale San Bortolo, dove è stato eseguito il primo intervento, un trapianto da donatrice vivente su un paziente al quale la moglie ha donato un rene. Un gesto di generosità e amore che ha reso possibile al marito scongiurare una progressiva e grave insufficienza renale e la dialisi a vita. È un impegno importante perché richiede un sacco di risorse sia dal punto di vista organizzativo che della struttura, ma a fronte di un impegno importante vi è da dire che c'è la soddisfazione di un miglioramento della vita delle persone estremamente importante perché una vita fatta in dialisi è una vita per chi li conosce estremamente complessa e dura e così è come tornare a nuova vita ed è una bella cosa e donare una moglie che ha del marito comunque è un impegno anche psicologico estremamente importante. Prelievo del rene della donna ha durato tre ore, trapianto durato poco più di due ore eseguiti con successo la scorsa settimana e il paziente ha trascorso la prima notte nella nuova terapia intensiva post-operatoria diretta dal dottor Vinicio Danzi. Dopo i controlli di routine è stato spostato nel nuovo centro trapianti. L'intervento è un intervento molto impegnativo perché presuppone già una preparazione su un'atteusa importante da parte dell'unità operativa di nefrologia da parte dei trapianti eseguiti dalla dottoressa Gastaldon poi il prelievo d'organi e nello stesso tempo la preparazione in un'altra sala per il trapianto dell'organo in questo intervento è intervenuto sia l'unità operativa complessa di chirurgia con il dottor De Marchi e il dottor Rossi che si occupa di trapianti e con il dottor Banzato che è il nostro primario di 90 responsabile dell'area trapianti. Ora entrambi potranno tornare ad una vita normale Voltiamo decisamente pagina è partito il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi sono 32 gli atleti veneti impegnati Tutto è pronto a Parigi per la cerimonia d'apertura della 33esima edizione dei giochi olimpici occhi puntati sui 32 atleti veneti in gara dal nuoto al ciclismo dall'atletica alla pallavolo la provincia maggiormente rappresentata a Vicenza con ben 12 campioni impegnati nelle competizioni a seguire Verona con 7 atleti 6 per la provincia di Padova 3 per Venezia e Treviso e un atleta per il Rodigino la parte del Leone la fa sicuramente l'atletica con 11 rappresentanti tra loro la Vicentina e Lisa Molinarolo per il salto con l'asta ma possiamo inserire tra loro anche Marcel Jacobs Marco Tamberi e Larissa Iapichino che garaggeranno per le fiamme oro di Padova grandi aspettative anche dal nuoto con la campionessa Montebellunese Margherita Pansiera e il collega Vicentino Thomas Ceccon già argento e bronzo ai giochi olimpici di Tokyo nel 2022 per quanto riguarda il ciclismo attesa per la terza Olimpiade di Elia Viviani con i suoi 35 anni tra gli atleti più maturi di questa manifestazione non dimentichiamo poi la pallavolo con Paola e Gonu tra le file della nazionale femminile e se poi volessimo allargare il quadro impossibile non menzionare la divina Federica Pellegrini la pluricampionessa di nuoto di Spinea a Parigi come membro del Comitato Olimpico Internazionale In prima serata appuntamento con il Focus il talk del nostro direttore Luigi Bacialli gli ospiti di questa sera saranno Maria Rosa Barazza Fabio Crea Marco Dallapietra Mario Fabris Vivian Moro e Giovanni Zorzi È davvero tutto per questa edizione di TG Vicenza io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro buona serata su Rete Veneta Grazie a tutti Grazie a tutti